Il servizio di riscaldamento nelle scuole ma anche i problemi della refezione scolastica. L'assessore Gurriere risponde alle richieste e anche alle critiche avanzate su queste due problematiche affermando intanto che entro la settimana il riscaldamento nelle scuole cittadine verranno tutti avviati. Non solo il comune di Vittoria, spiega Gurrieri, ma anche tanti altri comuni stanno vivendo in Sicilia la crisi finanziaria determinata dalla pesante decurtazione dei trasferimenti regionali e statali e che frena la normale erogazione dei servizi. In ogni caso per l'esponente di giunta vittoriese in merito alla questione riscaldamento occorre intanto che le direzioni competenti programmino con sufficiente anticipo ed esattezza la quantità di risorse necessarie a garantire la tempestiva erogazione dei servizi. Un calcolo infatti parzialo o errato per Gurrieri proprio duro un disservizio che risulta però inaccettabile per chi deve poi intervenire. Poi la rifezione scolastica che per l'esponente di giunta non è in pericolo o a rischio. Si tratta di un servizio tra l'alto, dice Gurrieri, che garantisce circa 2000 pasti al giorno e che comporta un esborso enorme per il Comune. Allo stesso tempo è da mese anche all'attenzione degli uffici preposti il progetto di esternalizzazione del servizio e che attende solo di essere accompagnato dall'impegno di spesa necessario per la pubblicazione del bando.